È stata al centro dei lavori della prima commissione consigliare preseduta dal consigliere del PD Vito Santarsiero la bozza del nuovo statuto riformulata dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie del CNR diretto dal professor Stelio Mangiameli. Un contributo prezioso ha dichiarato Santarsiero. Un insieme di osservazioni, analisi e testi che sono stati oggetti di un'attenta valutazione da parte dell'ISIRFA che ha cercato di recuperare le sollecitazioni più significative dei consiglieri cercando di semplificarne i contenuti. Si è trattato di un contributo tecnico, non ideologico, non politico in quanto non di nostra competenza, ha affermato il direttore dell'Istituto Mangiameli. Il presidente del Consiglio regionale Piero Lacorazza dopo aver ringraziato il professor Mangiameli e i suoi collaboratori ha annunciato che porrà alla conferenza dei capi gruppo di calendarizzare per il 28 luglio prossimo l'approvazione dello statuto in prima lettura in Consiglio regionale.